Un caro saluto da Mario Giulianci. Da ottobre a marzo è il periodo dell'aurore boreale, il fenomeno luminoso più spettacolare nei cieli notturni. Bene, ma come si formano queste aurore? Ovviamente ci sono i principi della visica. Il Sole quando esplode emana, direi, nello spazio, non solo luce ma anche particelle, particelle soprattutto elettroni e protone, che viaggiano a circa 300-800 km all'ora negli spazi interplanetari. Giunti in prossimità della Terra queste particelle note come vento solare incominciano a interagire con il campo magnetico terrestre già quando sono a circa 40.000 km dalla Terra. E cosa fa il campo magnetico terrestre su queste particelle cariche che sono elettroni e protone? Li accelera, li accelera quindi le fa diventare più veloci, ma li accelera soprattutto in prossimità dei poli della Terra perché qui il campo magnetico terrestre è circa 4 volte più intenso all'equatore. Così accelerati, una volta che incontrano l'atmosfera a 300-200 km d'altezza, urtano così fortemente gli atomi di azoto che sono costretti a mettere luce per urto. Luce che è nel verde. Se poi il vento solare è ancora più intenso, scende ancora a quote più basse e incontra gli atomi di ossigeno, in questo caso gli atomi di ossigeno che si emettono a luce, ma è luce che è nel colore arancione.